Hai mai immaginato di dover scegliere tra l'amore della tua vita e tuo figlio? Nelle ultime puntate di Endless Love, questa scelta diventerà una realtà agghiacciante per Nian. E Mirko Squoblo, l'imprenditore spietato che abbiamo imparato a conoscere e temere, non si arrenderà facilmente. Anche dopo il matrimonio di Kemal e Nian, non accetterà di aver perso l'ex moglie e la piccola Denise. Denise, determinato a distruggere la felicità dei due protagonisti, orchestrerà un piano diabolico che metterà a dura prova il loro amore. Ma cosa succederà quando Nian sarà costretta a scegliere tra salvare Kemal o riabbracciare sua figlia? Nelle battute finali di Endless Love, la tensione raggiunge livelli inimmaginabili. Dopo il crollo della sua holding e la perdita di Nian e Denise, Emir capisce di non avere più nulla da perdere. Decide così di mettere in atto un piano estremo per vendicarsi di Kemal e Nian. Emir, accecato dall'odio e dalla vendetta, decide di colpire Kemal nel modo più crudele possibile. Rapisce la piccola Denise, figlia di Kemal e Nian, insieme a Zeynep, la sorella di Kemal. Le due vengono portate in un luogo isolato, spaventate e senza via di fuga. Per mettere ulteriormente sotto pressione il suo nemico, Emir invia a Kemal un video agghiacciante. Zeynep è legata saldamente a un letto, incapace di muoversi. Sul pavimento intorno a lei è stato sparso un liquido infiammabile che emana un odore acre. Una candela vacilla sul punto di spegnersi, la sua fiamma instabile è l'unica luce nella stanza buia. Con voce gelida e sguardo penetrante, Emir annuncia, quando quella fiamma toccherà il pavimento, non potrai più fare nulla per salvarla. Ogni parola è un colpo al cuore per Kemal, che assiste impotente alla scena. Prima che il video si interrompa bruscamente, appare l'immagine di Denise, mostrando che anche lei è nelle sue mani. Kemal, sconvolto e disperato, capisce che il... Il tempo stringe e che deve agire rapidamente per salvare le persone che ama più di ogni altra cosa al mondo. Kemal, disperato, capisce che il tempo stringe. Con astuzia e determinazione, riesce a localizzare Zeynep e a salvarla appena in tempo. Ma il pericolo non è affatto scampato. Salvare Denise si rivelerà una missione ancora più ardua, soprattutto quando Nian, preoccupata per la figlia, cade nella trappola di Emir. Emir riesce a catturare anche Nian, portandola in un luogo isolato dove tiene prigioniera Denise. La situazione è critica. Con un digno soddisfatto, Emir porta Nian davanti a Kemal, che ha fatto prigioniero in precedenza. Con la coppia finalmente nelle sue mani, Emir mette in atto il suo piano finale. Costringe Kemal a inginocchiarsi e porge una pistola a Nian. Se vuoi uscire viva da qui insieme a tua figlia, devi sparargli. È l'unica opzione che hai. Scegli chi ami di più. Uccidi Kemal, ordina con voce glaciale. Nian è sconvolta. Gli occhi pieni di lacrime. Guarda l'uomo che ama e poi la pistola tra le sue mani tremanti. Kemal, con uno sguardo sereno, le sussurra. Sarò sempre con te. Non ti preoccupare. Proteggi la nostra bambina e te stessa. Fallo adesso. Riuscirà Nian a compiere un gesto così estremo? È disposta a sacrificare l'amore della sua vita per salvare sua figlia? La tensione è palpabile. Nian, straziata dal dolore, chiude gli occhi e preme il grilletto. Un colpo risuona nell'aria, seguito dal silenzio più assoluto. Kemal cade a terra, mentre Nian viene trascinata via con la forza da Emir. Ma le cose sono davvero come sembrano? Kemal è veramente morto? O c'è un colpo di scena dietro l'angolo? Nel frattempo, Emir si allontana con Nian e Denise, convinto di aver finalmente eliminato il suo rivale e di poter ricostruire una famiglia con l'ex moglie e la figlia. Ma sottovaluta l'astuzia di Kemal e la forza dell'amore che lega i due protagonisti. In realtà, Kemal non è morto. Nian, consapevole che non avrebbe mai potuto uccidere l'uomo che ama, ha sparato intenzionalmente per mancargli, grazie a un piano concordato precedentemente con lui. Ma come hanno potuto prevedere le mosse di Emir? Nei giorni precedenti, sospettando che Emir avrebbe tentato qualcosa di estremo, Kemal e Nian avevano elaborato una strategia per ingannarlo. Avevano informato la polizia e predisposto tutto per catturare Emir in flagrante. Con Kemal vivo e le forze dell'ordine pronte a intervenire, si arriva alla resa dei conti. Emir, resosi conto di essere stato ingannato, perde il controllo. Inizia una fuga disperata, ma questa volta non ha scampo. Durante un ultimo confronto drammatico, Emir si ritrova circondato. In un impeto di rabbia, minaccia nuovamente la vita di Nian e Deniz. Ma Kemal, con coraggio e determinazione, riesce a salvarle, mettendo fine al terrore seminato da Emir. Ma sarà davvero la fine per Emir? O troverà un modo per tornare e vendicarsi ancora una volta? Con Emir sconfitto, sembra che finalmente Kemal e Nian possano vivere la loro vita insieme in pace. Tuttavia, le ferite lasciate dagli eventi recenti non sono facili da guarire. Zeynep, traumatizzata dal rapimento, cerca di ricostruire la sua vita, mentre la coppia deve affrontare le conseguenze emotive delle scelte fatte. Decidono di allontanarsi per un po', cercando serenità lontano dalla città e dai ricordi dolorosi. Si dedicano completamente a Deniz, promettendosi di proteggerla da qualsiasi pericolo futuro. Ma proprio quando i fan pensano di poter tirare un sospiro di sollievo, arriva una notizia inaspettata. La programmazione di Endless Love subisce un cambiamento improvviso. Secondo la guida TV ufficiale di Mediaset, venerdì 11 ottobre la serie non andrà in onda in prima serata su Canale 5. Al suo posto verrà trasmessa la prima puntata della fiction storia di una famiglia per bene. I fan sono in agitazione. Cosa succederà ora? Non c'è motivo di disperare. La puntata serale di Endless Love sarà trasmessa il giorno precedente, giovedì 10 ottobre. Ma perché questo cambio di programmazione? Ci sono forse altre sorprese in arrivo? Le ultime puntate promettono emozioni forti e colpi di scena inaspettati. Sebbene Emir sembri essere stato definitivamente sconfitto, nuove sfide potrebbero emergere all'orizzonte. I personaggi dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni e trovare il modo di guarire le ferite del passato. Ma la domanda che tutti si pongono è, riusciranno che Emma e Nian a vivere finalmente il loro amore senza ostacoli? Endless Love ci ha accompagnato attraverso un viaggio intenso fatto di amore, odio, vendetta e redenzione. I protagonisti hanno vissuto situazioni estreme, mettendo alla prova i loro limiti e la forza dei loro legami. Mentre ci avviciniamo al gran finale, le aspettative sono altissime. I fan attendono con ansia di scoprire quale sarà il destino di Kemal, Nian e Mire degli altri personaggi. Non perdetevi le prossime puntate per vivere insieme a loro gli ultimi momenti di questa avvincente storia. Le sorprese non sono finite e il finale potrebbe riservare emozioni indescrivibili. Se sei rimasto colpito da questa anticipazione e non vedi l'ora di scoprire come si concluderà Endless Love, assicurati di seguire ogni episodio. Iscriviti al nostro canale, lascia un like e condividi questo video con gli appassionati della serie. Secondo voi, Nian ha fatto la scelta giusta sparando a Kemal per salvare sua figlia? Credete che Mire possa ancora rappresentare una minaccia o la sua storia si concluderà qui? Quali sono le vostre previsioni per il finale della serie? L'ultima puntata di Endless Love sarà un concentrato di emozioni fortissime, capace di tenere lo spettatore con il fiato sospeso dall'inizio alla fine. Il cuore pulsante della narrazione sarà la disperazione di Nian, che si troverà al centro della scena, immersa in un turbine di sentimenti contrastanti. La sua sofferenza sarà palpabile, ogni sua lacrima una goccia di pura angoscia che penetra nell'anima di chi guarda. Questo evento sarà come un terremoto emotivo per tutti. Nian, che ha sempre amato Kemal con tutto il cuore, sarà profondamente scossa e devastata da questa tragedia. Non solo lei, ma anche tutti coloro che hanno seguito con passione la loro storia d'amore rimarranno sconvolti. La loro storia era un faro di speranza e romanticismo. E vedere un finale così crudele sarà come un colpo al cuore per tutti. Immagina di seguire una storia d'amore così intensa e appassionante, di tifare per i protagonisti, di sperare in un lieto fine e poi vedere tutto distrutto in un attimo. Sarà un dolore immenso per Nian, che perderà la persona che ama di più al mondo, ma anche per il pubblico, che ha vissuto ogni emozione insieme a loro. La malvagità di Emir non conosce davvero limiti e questo evento dimostrerà ancora una volta quanto possa essere spietato. La sua capacità di pianificare e realizzare un colpo così devastante con tale freddezza è qualcosa di veramente inquietante. Non solo riesce a causare una tragedia immensa, ma lo fa con una tale calma e precisione che lascia tutti senza parole. La sua mente contorta sembra essere sempre un passo avanti, come se riuscisse a prevedere ogni mossa dei suoi avversari e a sfruttare ogni loro debolezza. Questo evento sarà ricordato come uno dei più terribili atti di malvagità mai compiuti e chiunque abbia la sfortuna di incrociare il suo cammino vive costantemente nel timore di cosa potrebbe fare dopo. Emir è un maestro della manipolazione, capace di convincere chiunque a fare il suo gioco, spesso senza che nemmeno se ne rendano conto. La freddezza con cui opera è disarmante. Mentre il mondo attorno a lui cade nel caos, Emir sembra sempre mantenere il controllo, come se ogni dettaglio fosse parte di un piano più grande. Non c'è emozione nei suoi occhi, nessun segno di rimorso o esitazione. Ogni sua azione è calcolata con precisione chirurgica e il suo sguardo impassibile riflette solo la sua determinazione a raggiungere i propri scopi, qualunque essi siano. Le sue vittime non sono solo numeri per lui, ognuna rappresenta una tappa nel suo percorso verso il potere e il controllo. Emir è capace di colpire nei momenti più inaspettati, quando tutti pensano di essere al sicuro, e quando lo fa, il suo attacco è tanto devastante quanto imprevedibile. Ogni volta che compie una delle sue azioni malvage, lascia dietro di sé una scia di distruzione e disperazione che sembra non avere fine. La comunità intera vive nell'ombra del terrore che Emir è capace di instillare. Le sue azioni hanno conseguenze che si ripercuotono ben oltre l'immediato, influenzando la vita di tutti coloro che ne sono toccati. E mentre la gente cerca di riprendersi dalle sue atrocità, Emir è già alla ricerca della sua prossima vittima, pronto a infliggere un nuovo colpo mortale. La sua spietatezza non ha confini e la sua sete di potere sembra essere insaziabile. Ogni volta che sembra essere stato fermato, riesce a trovare un modo per risorgere, più forte e più determinato di prima. La sua malvagità è un abisso senza fondo e chiunque osi opporsi a lui deve essere pronto a pagare un prezzo altissimo. In conclusione, la figura di Emir rappresenta l'incarnazione della perfidia e della crudeltà. La sua capacità di orchestrare atti così devastanti, con una precisione e una freddezza così impressionanti, lo rende una figura temibile e rispettata, ma anche profondamente odiata e temuta. La sua presenza è come un'ombra oscura che incombe su tutti e finché continuerà a operare nell'ombra, nessuno potrà mai sentirsi veramente al sicuro. In definitiva, questo evento sarà un momento di svolta nella storia. Un momento che lascerà un segno indelebile nei cuori di tutti, un ricordo doloroso che sarà difficile da superare. La crudeltà di Emir e la tragedia che ha causato saranno un tema centrale che segnerà profondamente il futuro della storia e dei suoi personaggi. Nihan, persa nella sua disperazione, si sentirà completamente impotente di fronte a una realtà che non riesce ad accettare. Il suo futuro, senza Kemal, apparirà come un buio totale, un abisso di solitudine e dolore. L'amore della sua vita, colui che rappresentava la sua luce e speranza, le è stato strappato via con violenza, lasciandola avvagare nelle ombre del suo tormento. In un momento di sconforto estremo, in cui ogni speranza sembra svanita, Nihan implorerà con tutto il cuore «Portami insieme a te, non lasciarmi qui». Le sue parole saranno un grido disperato, un tentativo estremo di aggrapparsi a quell'amore che le è stato crudelmente tolto. La sua voce, spezzata dal dolore, risuonerà come un eco nell'animo degli spettatori, lasciando un segno indelebile. Questa puntata finale di Endless Love promette di essere un'esperienza intensa e travolgente, un viaggio attraverso le emozioni più profonde e struggenti, che lascerà tutti con il cuore in subbuglio e le lacrime aggli occhi. Nel frattempo, Asu riesce a fuggire dalla clinica psichiatrica. Lei ed Emir sono una coppia diabolica, decisi a eliminare Kemal, nonostante Asu abbia anche intenzione di uccidere Nihan. Condannata all'ergastolo per i suoi crimini, tra cui l'omicidio di Ozan e la morte di Tufan, Asu viene ricoverata in un ospedale psichiatrico a causa delle sue condizioni mentali instabili. Ma non perde mai i contatti con Emir e insieme progettano una vendetta spietata. Asu, grazie al suo fascino, riesce a sedurre un medico e a fuggire dall'ospedale, mentre Emir rapisce Nihan, consegnandola alla sorella che la terrà prigioniera. Emir, ferito gravemente, finisce in ospedale e Kemal, disperato, lo raggiunge per scoprire dove sia Nihan. Emir però è chiaro, dirò il luogo dove si trova Nihan soltanto a Kemal. Kemal, condotto da Emir, arriva sul posto. I suoi occhi si allargano di orrore quando vede Nihan in pericolo. Con il cuore in gola corre verso di lei, ma il suolo sotto i suoi piedi sembra tradirlo. Ogni passo che compie è un azzardo, un rischio calcolato nell'inferno personale creato da Emir. Emir, con un sorriso malefico, osserva la scena da una distanza sicura. È stato lui a piazzare le mine intorno a Nihan, creando un cerchio di morte e distruzione. La sua mente diabolica ha orchestrato tutto con precisione chirurgica. Ora guarda soddisfatto mentre Kemal si avvicina sempre più al suo destino. Kemal è intrappolato. Un solo passo falso e l'esplosione è inevitabile. Ogni secondo che passa sembra durare un'eternità. Ogni respiro è una sfida contro il destino. Il vento ulula intorno a loro, portando con sé il peso delle promesse non mantenute e dei sogni infranti. Nihan, con le lacrime agli occhi, guarda Kemal e gli urla di fermarsi, ma la distanza e il frastuono delle onde sotto di loro soffocano le sue parole. Il cuore di Kemal batte furiosamente, ma il suo amore per Nihan gli dà la forza di continuare, nonostante il pericolo. Con ogni passo sente il terreno cedere leggermente. Il suono delle mine, pronte a scattare, riecheggia nei suoi pensieri. La tensione è palpabile, come una corda tesa pronta a spezzarsi. Lo spettatore è inchiodato alla scena, trattenendo il respiro mentre Kemal si avvicina sempre di più a Nihan. Sarà in grado di salvarla? O cadrà nella trappola di Emir, pagando con la vita il suo amore? Le possibilità sembrano assottigliarsi, ma l'eroismo di Kemal brilla come una luce in mezzo all'oscurità. È una corsa contro il tempo, contro il destino stesso, mentre l'amore e il coraggio si scontrano con la perfidia e la disperazione, in un climax mozzafiato. Emir, fiero della sua astuzia, osserva la scena da lontano, ma presto capisce di essere anche lui in pericolo di vita. Quando cerca di chiamare Baran per essere salvato, riceve una risposta glaciale. Mi dispiace, ma il suo è un viaggio senza ritorno. Nonostante gli sforzi per salvare Nihan, la situazione di Kemal è disperata. Emir viene tratto in salvo, ma Kemal lo blocca. Questa non è la mia fine, è la tua fine. Kemal, con lo sguardo pieno di tristezza e determinazione, le accarezza dolcemente il viso, cercando di imprimere nella sua memoria ogni dettaglio di quel momento. Sa che non c'è ritorno, che la decisione è già stata presa. Con un ultimo, struggente sguardo, si allontana da Nihan, il cuore che sembra scoppiare nel petto. Akan, con ghigli occhi freddi e decisi, prende Kemal per un braccio, guidandolo lontano. Nihan resta lì, impotente, sentendo il mondo crollarle addosso. Ogni passo di Kemal sembra un colpo al suo cuore, un segno che il loro destino è segnato. Infine Kemal si ritrova faccia a faccia con Emir, il suo nemico di sempre. Le tensioni tra di loro raggiungono il culmine e per un attimo il tempo sembra fermarsi. Kemal, con una calma apparente, compie il gesto fatale. Muove un piede e innesca l'esplosione. Il rumore assordante riempie l'aria, un boato che segna la fine. Per loro sarà davvero la fine. In quel momento tutto ciò che è stato, ogni lotta, ogni sacrificio, culmina in un atto di estrema ribellione e sacrificio. Il mondo di Nihan, Kemal ed Emir cambia per sempre, lasciando dietro di sé solo macerie e ricordi di un amore impossibile e di un destino crudele. Questo finale drammatico terrà tutti con il fiato sospeso, incollati alla sedia fino all'ultimo secondo, con il cuore in gola per il destino dei protagonisti. Ti aspettavi un finale così? La morte tragica di Kemal ha scosso tutti noi, lasciandoci con il cuore spezzato e mille domande nella testa. Endless Love è stata una montagna russa di emozioni e proprio quando pensavamo che tutto potesse risolversi, ci siamo trovati di fronte a una conclusione straziante. La fine di Kemal, così dolorosa e inaspettata, ha lasciato un vuoto enorme. Ci siamo affezionati a lui, abbiamo vissuto le sue gioie e le sue sofferenze e vederlo cadere in quel modo è stato un colpo durissimo. Ma forse proprio questa tragicità ha dato un significato ancora più profondo alla sua storia, rendendola indimenticabile. E tu? Come avresti voluto che finisse? Avresti preferito vedere Kemal e Nihan finalmente insieme, liberi da tutti i loro tormenti? Immagina un finale diverso, in cui l'amore trionfa e i due innamorati riescono a costruire la vita che hanno sempre sognato. Sarebbe stato più giusto? O forse la bellezza di Endless Love sta proprio nel suo finale amaro, che ci ricorda quanto l'amore possa essere potente e devastante al tempo stesso. Condividi i tuoi pensieri e le tue emozioni. Raccontaci come avresti voluto il finale di questa straordinaria storia d'amore. Il finale di Endless Love, la sop turca che ha catturato il cuore di milioni di telespettatori su Canale 5, si preannuncia come un evento straziante e indimenticabile. Nihan, la protagonista, si trova a dover affrontare una perdita devastante, quella del suo amato Kemal. Questo tragico evento non è solo un colpo di scena, ma rappresenta un vero e proprio punto di non ritorno nella vita della giovane donna. La sua esistenza, già segnata da difficoltà e tormenti, viene travolta da un dolore insopportabile che la costringe a confrontarsi con un futuro che appare oscuro e privo di speranza. Kemal, in un atto di eroismo senza precedenti, sacrifica la propria vita per salvare Nihan da un destino terribile orchestrato dal malvagio Emir. Questo gesto d'amore puro e disinteressato non solo segna la fine della loro storia romantica, ma lascia Nihan con il cuore lacerato e una vita da ricostruire. La giovane madre dovrà ora affrontare la sfida di crescere la loro figlia Deniz da sola, mentre il ricordo del padre rimarrà un'ombra silenziosa nel loro quotidiano. Nihan decide di proteggere la piccola Deniz dalla verità sul tragico destino di Kemal. Nonostante il peso del segreto, la madre si sforza di mantenere viva la serenità della bambina, sperando che possa vivere una vita più felice della sua. La determinazione di Nihan è palpabile. Ogni giorno è una lotta per trovare la forza di andare avanti, per amore della sua piccola. I telespettatori assisteranno a un salto temporale di quattro anni, durante il quale si esplorerà come il lutto abbia plasmato le vite dei protagonisti. Nihan è una donna forte, abituata ad affrontare le sfide della vita con determinazione e coraggio. Ma quando la morte di Kemal irrompe nella sua esistenza come un fulmine a ciel sereno, tutto cambia radicalmente. Kemal non era solo il suo grande amore, l'uomo con cui aveva condiviso sogni e progetti per il futuro. Era anche il padre della loro adorata figlia, Deniz, il pilastro su cui Nihan aveva costruito la sua famiglia. Ora, in un istante, quel pilastro è crollato, lasciando Nihan smarrita e senza punti di riferimento. La sua mente è un turbinio di pensieri oscuri e ricordi strazianti che le impediscono persino di immaginare un futuro senza Kemal. Ogni momento trascorso insieme, ogni sorriso, ogni abbraccio, si trasforma in un pugnale che le lacera il cuore. Nihan si ritrova catapultata in un incubo dal quale non riesce a svegliarsi. La sua forza, quella stessa forza che l'aveva sempre sostenuta nei momenti difficili, sembra essersi dissolta come neve al sole. Si sente sola, persa, incapace di affrontare la realtà di una vita senza Kemal. Quando torna a casa, dopo aver assistito impotente alla tragedia che l'ha privata dell'uomo che amava, Nihan si rifugia nella camera da letto, il luogo che custodiva i loro ricordi più intimi. È lì, sul pavimento freddo, che il dolore la sopraffà. Lacrime amare scendono copiose sulle sue guance, mentre il suo corpo è scosso da singhiozzi disperati. Vildan, la mamma di Nihan, entra nella stanza nel tentativo di confortarla, di aiutarla a rialzarsi da quella spirale di dolore in cui sembra essere precipitata. Ma le sue parole, per quanto piene di affetto e preoccupazione, appaiono vuote e insignificanti di fronte alla vastità della sofferenza di Nihan. La donna continua a piangere, incapace di trovare conforto anche nella presenza di Vildan. I ricordi del campo minato, del terribile agguato in cui Kemal ha perso la vita, si susseguono nella sua mente come una maledizione senza fine. Emir, il perfido nemico di Kemal, le appare come un fantasma che la perseguita, un incubo vivente che le ha strappato via la sua ragione di vita. Nihan si sente sprofondare in un abisso senza fondo, incapace di vedere una via d'uscita a tanta disperazione. È in questo momento di totale smarrimento che una decisione estrema prende forma nella sua mente, porre fine a tutto quel dolore, a quella sofferenza che le sta lacerando l'anima. Con mani tremanti, Nihan raccoglie una grossa dose di farmaci, il suo piano, per liberarsi definitivamente da quel tormento che le sta divorando il cuore. Ogni speranza sembra essersi spenta in lei, sostituita da un desiderio disperato di raggiungere Kemal, di ricongiungersi con l'uomo che ha amato più di ogni altra cosa al mondo. Ma proprio mentre sta per ingerire le pasticche che la porteranno via per sempre, una presenza inaspettata irrompe nella stanza. È Leila, con la piccola Denise tra le braccia, che entra nella camera da letto di Nihan. Lo sguardo della donna si posa sulla bambina e in quel momento qualcosa in lei si risveglia. Denise, la loro bambina, il frutto dell'amore di Nihan e Kemal, la luce che aveva illuminato la loro vita. Come aveva potuto dimenticarla in quel momento di disperazione? Come aveva potuto pensare di abbandonarla, di lasciarla sola in un mondo che improvvisamente le appariva ostile e crudele? Nihan sente il peso di Denise, il suo calore, la sua innocenza, come un balsamo che lenisce la sua sofferenza. La bambina la guarda con i suoi grandi occhi pieni di amore, inconsapevole del dramma che sta sconvolgendo la vita della sua mamma. In quel momento Nihan comprende che non può arrendersi, che deve trovare la forza di andare avanti, non solo per se stessa, ma anche per Denise. Con un gesto lento e deciso, Nihan posa le pasticche sul comodino, rifiutando quella via di fuga che, per un attimo, le era sembrata l'unica soluzione possibile. La sofferenza per la perdita di Kemal l'aveva avvolta in una spirale di disperazione, ma in quel momento cruciale abbraccia Denise, stringendola a sé con tutta la forza che ha. La piccola è l'ancora che la tiene aggrappata alla vita, il simbolo di un amore che deve essere onorato. Nihan giura a se stessa e a Kemal che non si arrenderà. Lotterà con tutte le sue forze per essere la madre che Denise merita. La promessa di un futuro luminoso si fa strada tra le lacrime, mentre il ricordo del loro amore la spinge a rialzarsi. In quell'abbraccio Nihan trova la determinazione per affrontare il dolore e le avversità, consapevole che ogni passo avanti sarà un tributo a Kemal e alla loro storia. La piccola Denise, ignara del tumulto emotivo della madre, guarda con occhi innocenti e curiosi. Nihan sente il calore del suo corpo contro il suo e realizza che non può permettere che il buio prenda il sopravvento. Con un respiro profondo lascia cadere le pasticche e si concentra su ciò che conta davvero. La vita di Denise è il ricordo di un amore eterno. La dolcezza del momento si mescola alla determinazione di Nihan. Non sarà solo una sopravvissuta, ma una guerriera per la sua famiglia. In quel preciso istante il mondo esterno svanisce. Nihan si promette di combattere contro ogni ostacolo e di costruire una vita piena d'amore per Denise. Ogni giorno sarà un passo verso la guarigione, un'opportunità per trasformare il dolore in forza. La sua vita non sarà più definita dalla perdita, ma dall'amore che continua a vivere attraverso sua figlia. Con questa nuova consapevolezza, Nihan si prepara ad affrontare il futuro con coraggio e passione, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Le lacrime continuano a scendere, ma ora sono lacrime di determinazione, di coraggio, di una rinnovata volontà di vivere. Nihan sa che il cammino verso la guarigione sarà lungo e doloroso, ma ha trovato la forza di affrontarlo, spinta dall'amore per sua figlia e dal desiderio di rendere orgoglioso Kemal, ovunque egli sia. In quel momento Nihan comprende che il dolore non scompare, ma può essere trasformato in qualcosa di diverso, in una forza che la spinge ad andare avanti, a vivere pienamente per onorare la memoria di Kemal e per costruire un futuro luminoso per Deniz. È una consapevolezza che le dà coraggio, che le fa sentire che, nonostante tutto, la vita vale ancora la pena di essere vissuta. Mentre Nihan abbraccia Deniz, stringe tra le dita un anello, l'anello di fidanzamento che Kemal le aveva regalato, simbolo di un amore eterno che nemmeno la morte può spezzare. È con quel ricordo nel cuore che Nihan si rialza, determinata a percorrere il suo cammino, sapendo che Kemal sarà sempre al suo fianco, vegliando su di lei e su Deniz dall'alto. Il dolore di Nihan non svanirà in un istante, ma giorno dopo giorno, passo dopo passo, lei imparerà a conviverci, trasformandolo in una forza che la spingerà a vivere pienamente, a cogliere ogni occasione per essere felice e per rendere felice sua figlia. È una sfida immensa, ma Nihan è una donna forte e con l'amore di Deniz e il ricordo di Kemal a guidarla sa che ce la farà. La storia di Endless Love ci insegna quanto sia importante affrontare il dolore e trovare la forza per andare avanti, anche quando sembra impossibile. La lotta interiore di Nihan rappresenta una battaglia universale contro la disperazione e l'oscurità che può invadere le nostre vite nei momenti più difficili. Mentre gli spettatori seguono il percorso emotivo di Nihan, vengono coinvolti in una narrazione che esplora temi profondi come l'amore, la perdita e la resilienza. Ogni scena è carica di emozioni e colpi di scena che tengono alta l'attenzione del pubblico fino all'ultimo minuto. Il finale di Endless Love non è solo una conclusione tragica, è anche un messaggio potente sulla speranza e sul potere dell'amore. Nonostante le avversità, Nihan trova la forza dentro di sé per continuare a vivere per Deniz e onorare la memoria di Kemal. La SOP turca riesce a catturare l'essenza delle emozioni umane in modo autentico e toccante. Gli spettatori sono invitati a riflettere su come le relazioni influenzino le nostre vite e su quanto sia fondamentale avere qualcuno accanto nei momenti bui. In conclusione, il finale di Endless Love rappresenta un viaggio attraverso il dolore e la redenzione. La storia di Nihan è una testimonianza della forza interiore che ognuno può trovare anche nelle situazioni più disperate. Con l'amore della sua bambina come guida, Nihan, intraprende un nuovo cammino verso la guarigione e la speranza, dimostrando che anche nei momenti più bui c'è sempre una luce da seguire.